L'enfasi, perfino la caoticità della dimensione metropolitana newyorkese, filtrandolo attraverso paesaggi visionari dell'aspetto industriale e urbano. Joseph Stella, grande artista italiano, nato in provincia di Potenza, che è riuscito, si è trasferito già a 16 anni, pensate questo talento italiano, arriva a New York, studia alla School of New York, si occupa di illustrazione, torna in Europa dove viene attratto dalle correnti del futurismo e del cubismo orfico, ma in definitiva quando torna di nuovo in America è grande esponente anche di Dada, del movimento Dada. Vedete questi aspetti, su tutto però rimane in Joseph Stella la sua identificazione con una sorta di pittura legata al cubismo, legata a visioni intrepide. Ma ancora una volta è importante notare quanta contaminazione vi sia tra aspetti che sembrano del tutto diversi e perfino contrastanti. Cioè da una parte la visione classica italiana, dall'altra parte l'aspetto legato alle incontinenze, ai momenti, alle visioni, alle necessità di rappresentazione, di interpretazione di momenti diversi fra loro, perché se Stella è italiano, se Stella nasce con un DNA legato dunque alla rappresentazione, al recupero dei caratteri specifici del linguaggio artistico tradizionale, è anche vero che nella sua visione nordica americana tutto questo viene recuperato con stregonesca consapevolezza ad una famulazione, ad una necessità di riuscire a rendere l'idea di una metropoli incontrollabile, di una metropoli che fa del ritmo visibile, che fa della velocità, che fa dell'immediatezza una ragione d'essere di vita. Non a caso Stella rappresenterà quella stessa New York, certo nei ritmi, ma anche, come dicevo prima, nella sua visionarietà, nell'aspetto visionario, nell'aspetto quasi surreale, non legato, non legato a ciò che può essere riconoscibile prima faccia. Quindi un aspetto che conduce a momenti, che conduce a rappresentazioni, a visioni liberissime di intendere, quindi in un certo qual modo anche anti-accademiche, anti-tradizionali, completamente anti-tradizionali. Vedete questo scenario del novecento, del primo novecento americano, quanto già custodisca in nuce quello che poi… è quasi un'attività propedeutica, quella di Stella, alla grande action painting degli anni 50. Cioè è quasi propedeutica alla volontà di eliminare ogni riferimento, ogni adentellato, di eliminare ogni legame con la tradizione, con la storia perfino. Perfino con il rispetto, con il rispetto di certa arte europea, conosciottissima anche in America, ma una nazione giovane doveva comunque creare delle sue idealità. Ma attenzione, dicevo prima, Stella è italiano, a 16 anni arriva in America, quindi porta… Vedete queste contaminazioni, ma in definitiva, anche in election painting, lo sapete benissimo, americana, convergono tanti reazionari europei che cercano una nuova terra promessa, per poter liberarsi sempre più dalle costruzioni e dalle… dovete sempre portare il tutto alla storia. Oggi, certo, un pittore contemporaneo è più agevolato nella libertà, nella mobilità dell'estetica, l'estetica che può essere mobile perché si dice oggi rinunciare alla mobilità significherebbe rinunciare all'invenzione, ma dovete pensare a cosa accadeva nei primi… nel novecento, i primi novecento. Joseph Stella, dunque, è stato un autentico rivoluzionario. edificato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. E allora, vi faccio vedere il video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E allora, vi faccio vedere il video. Autore dei sorrisi